Ecco perché in questi giorni non ho più pubblicato video Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di ChrisMagic52 Allora ragazzi, oggi non siamo né qui per giocare e né qui per scherzare Praticamente vi sto raccontando una storia vera e seria Allora, praticamente voi vi sarete posta questa domanda ChrisMagic perché non pubblica più video? Che cosa sta succedendo? Molti si saranno pensati che vi sarò preso le ferie Molti si saranno pensati che ci sarà successo qualcosa Molti hanno pensato che vuole chiudere il canale Molti hanno pensato in un altro modo Tutti voi avete delle scelte che non vi possono dare la risposta E qui oggi ci sono anche io Beh, ci sono io qui che ve la do Allora, non volevo neanche registrare per questo video Però solo è perché vi devo... Cioè, è per tranquillizzarvi e perché non sto più pubblicando video Allora, diciamo che 4-5 giorni fa Avevo fatto un video con Manuel Di calcio Un video di calcio Solo che non so se questo video uscirà perché Lo devo editare quindi non so se riesco Allora, praticamente Noi stavamo facendo questo video Vabbè, la sera mi ritrovo i video a parte 1 e a parte 2 Ho detto, mica posso fare come i vecchi tempi A pubblicare sempre parte 1 e parte 2 Ormai devo iniziare anche io a editare Anche io devo essere uno youtuber a editare E poi c'erano parti che duravano anche pochissimo C'erano una da 19 minuti e una da 30 minuti C'era anche una da 5 minuti Quindi come potevo fare tre parti se una durava 5 minuti E allora vi spiego Ma allora, io di solito, se voi l'avrete notato Io edito i video con X Recorder Per chi non l'ha capito Anche nei video nella casetta sull'albero Cioè, no, che dico, nella casetta di legno C'è scritto X Recorder E quello l'ho editato proprio io Anche quello là del parkour L'ho editato con X Recorder Allora ho detto, vabbè, editiamo anche questo video Allora iniziai a editare Vabbè, mi iniziò a fare questo editing E misi insieme tutti i video E anche tagliai un po' di parti Che avevamo dimenticato di scrippare Allora, infine, mi sono ritrovato Che il video era arrivato a 100% In cui significava che era finito il caricamento E il video era pronto Ma quando sono andato a vedere Non mi ha dato solo la parte iniziale Tutto quello che avevo fatto era andato via Cioè, non era stato messo Tutte le parti che avevo attaccato E messo unito Non si erano unite Quindi ho detto Come è possibile che X Recorder E questa è la seconda volta che mi trolla Sì, perché avevo fatto anche un altro video in passato E non me l'ha fatto sempre per questo fatto Allora, mi sono messo a cercare delle applicazioni Allora, molte mi dicevano che non avevo memoria Molte non le sapevo usare Affinché non trovai questa applicazione PowerDirector Mamma mia, regà Mamma mia, che cosa è successo? Ora vi spiego Allora, avevo installato quell'app A saperlo non la installavo proprio E iniziai praticamente a cliccare Crea nuovo progetto Quindi avevo messo i video da unire E infine mi dice che non ho memoria Io avevo comprato una memoria interna Dove è molto grande Tipo 60 GB e una roba del genere E ho detto C'era scritto memoria piena Quindi non mi potevo fare il video Allora, dice Vai nelle impostazioni Allora io volevo fare tutto il possibile per reeditarlo Infine mi fa andare su selezione elementi sulla galleria Ovvero in file e roba che non conosco Vabbè, ho cliccato una cartella Un file a caso E infine mi ritrovo Che questa memoria interna Questa memoria interna Non ce l'ho Cioè praticamente Non avevo più questa memoria interna Ho detto Ma cosa è successo? Io ho cliccato solo in un file Com'è possibile che la mia memoria interna Si è sparita? Perché tutti i video che faccio Li tengo salvati sulla memoria interna Questo ricordatevelo Che li tengo salvati sempre sulla memoria interna E praticamente tutti i video Il video che avevo fatto con Manuel E anche un video di Block Descentless Che dovevo pubblicare per l'indomani Non c'erano più C'erano solo 5 fotografie nella mia galleria Allora ho detto Come sarà? Come è successo? Allora ho domandato a mia madre Cosa fosse successo con questa scheda E lei mi dice Dobbiamo andare praticamente al centro dei telefoni All'assistenza dei telefoni Come la chiamate voi E allora ho detto Come è possibile che un file Questa applicazione di me Che mi ha eliminato Questa memoria interna Ora come faccio? Perché raga Quando mi faceva registrare i video Mi dava un minimo di tempo Tipo mi dice 0 secondi Che è appena iniziato il video Su 30 Quindi io potevo registrare solo 30 minuti di video Vabbè Allora Iniziai a disperarmi E iniziai a A capire qual era il nome di quel file A far sì che Rientravo in quel file E cercavo in tutti i modi Qualcosa per far ritornare la memoria Infine Ho disinstallato PowerDirector E L'ho disinstallato Perché mi faceva Spazio Che Google Play mi dice Che mi faceva spazio Che volevo aggiornare StumbleGuys E infine Ho capito Che Ho capito anche perché Che Come vi devo dire Che pure Google Play Non mi faceva installare più app Perché Tutto era Perché tutto Era Cioè la memoria interna non c'era più E quindi quel poco che avevo di memoria Era pochissimo Allora Ho detto come devo fare Come devo fare Sono passati ben due giorni Da Da questo problema Che Ho affrontato Prima stavo in bagno E Ho detto Come devo Come devo risolvere questo caso Poi sono Sono uscito dal bagno E sono andato Nella mia camera Ho detto Mo' mi metto un attimo A Fare qualche immagine Almeno faccio Un video Almeno faccio Un video di Un video di domande di Istanbul Guys O qualcuna di Brawl Stars Infine Andrei sulla galleria Perché dovevo iniziare a fare Le foto E gli screenshot Come nello shorts Che ho messo le immagini E praticamente Mentre stavo andando Mi ritornarono tutte le foto E tutti i video che avevo Tutto come è possibile A caso Io stamattina Cioè questo pomeriggio Avevo Avevo Volevo fare qualche video Insieme a Davide Che purtroppo Non sono riuscito a fare Sempre per La casa di 30 minuti Quindi Stasera È ritornata Questa memoria Non so il motivo E il perché È ritornata a casa Io stavo andando Nella galleria Per fare Delle copertine Per fare Come vi ho detto Delle foto Per il video Che volevo fare E mi apparirono Tutte Queste Tutte Le mie Fotografie Che avevo Sulla memoria interna Allora Ho detto Oddio Com'è possibile Com'è possibile Andai sulla camera E la camera Mi diede Una specie di informazione Vuoi trasferire Tutte le tue foto Sulla memoria interna Io ho paralizzato Ho detto Ma com'è possibile Ma come sia possibile Che io Sono entrato in galleria E mi sia ripristinato Tutto da solo Ho cliccato ovviamente Si Trasferisci E ora Mi ritrovo qui Che posso Fare un video Anche di tre ore Quattro ore Non mi da nessun limite Più di tempo E che dire Il telefono Cioè Nonostante a portarmi sfortuna Mi ha A me pure Ha fatto tutto da solo Va bene Spero che Non succeda più Una cosa del genere Perché Veramente Lì avevo Il rischio Di non pubblicare Nessun più video Va bene Comunque Ci vediamo A un prossimo video Ovvero Spero che riesco A editarlo Quello là Di calcio Io e Manuel Quindi Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi